Confermare le brillanti performance che lo hanno contraddistinto nel panorama realistico nazionale nella stagione agonistica appena conclusa. Queste le prerogative per il 2017 del Jolly Racing Team, la scuderia più numerosa della Toscana, espresse in occasione di una serata che ha chiamato a raccolto equipaggi, addetti a lavori ed istituzioni. Dal punto di vista organizzativo, il sudalizio metterà ancora sul piatto del motosport toscano il rally della Val di Nievole, quest'anno nelle date del 22-23 aprile, all'Arciano, nuovamente teatro di quella che, una manciata di anni fa, era ritenuta una scommessa ma che adesso rappresenta una variabile di successo emulata da altri organizzatori, l'allestimento della prova spettacolo con passaggio proprio dal centro cittadino. Anticipazioni confermate direttamente dal presidente della scuderia Gianni Lazzari, confermate anche la partnership con il comune di Lamporecchio, parte integrante del fine settimana realistico. Un esperimento perfettamente riuscito nell'edizione 2016, con la sede del riordinamento che ha cementato ulteriormente il legame tra rally e territorio, espresso con toni entusiasti dal sindaco Alessio Torrigiani e dall'assessore alla cultura e dal turismo Monica Cetraro. Molti i riconoscimenti per la scuderia in ambito nazionale, grazie alle prestazioni di Gianna Andrea Pisani e Tommaso Suffi, piloti al centro di ottimi risultati, valzi la partecipazione al supercorso federale promosso dall'Automobile Club d'Italia. A farsi largo tra i copiloti è stata Jasmine Manfredi, campionessa italiana nella categoria femminile. Sotto i riflettori anche le performance di Francesco Paolini, vincitore di raggruppamento nell'Ear Cup, di Roberto Tucci e di Alessio Santini, preannunciati protagonisti nella stagione in avvio. Un 2017 è sotto il segno delle novità per Jolly Racing Team, con l'organizzazione di un evento legato al karting che coinvolgerà l'Arciano nel mese di luglio e con il rally di Pomarance a chiudere la stagione agonistica.